Sicuramente la situazione è difficile perché comunque il cambiamento climatico è già arrivato. Noi abbiamo passato degli anni a gridare al lupo, al lupo, ma il lupo ormai è arrivato e conseguentemente sta producendo i suoi effetti. Li sta producendo soprattutto nelle aree interne perché le sorgenti che abbiamo, e sono centinaia, hanno praticamente ridotto del 40-50%, in alcuni casi anche del 100% la loro portata e quindi ci obbligano oggi a girare in modo massivo con le autobotti. Quindi è chiaro che più i cittadini ci aiutano a consumare il meno possibile, ovviamente ci aiutano anche a uscire da questo momento veramente complicato. Il prosciugamento è per le sorgenti, ma un po' a tutte le portate, perché anche lo stesso Metauro, ovviamente credo che se uno guarda le foto dell'invaso di Tavernelle, praticamente è prosciugato. Quindi anche questo sta creando delle grosse difficoltà alla vita del fiume, quindi al minimo del flusso vitale. Sicuramente le sorgenti che abbiamo sparse per tutto il territorio, soprattutto nelle aree interne, che sono centinaia, come dicevo prima, stanno riducendo e quasi azzerando le loro portate. Nell'alto Montefeltro abbiamo le sorgenti importanti del Brascone e Pescaie, che praticamente da 30 litri oggi danno zero. Avevamo 30 litri a febbraio, oggi danno zero. Quindi siamo costretti a rimpinguare i serbatoi solo con le autobotti. A San Martino dei Muri e Fossombrone da 24 litri siamo oggi anche qua a zero, quindi veramente abbiamo una situazione difficile. Le sorgenti di Pianni Meleto, anche qua da 16 litri siamo a 4, quindi con una riduzione ovviamente significativa e che ci mette in forte difficoltà, ma forse quella più significativa è quella di Pia e Trella, del bacino del Monte Nerone, quindi nella zona di Apecchio e Cagli, che è da 80 litri a febbraio, oggi da 40 litri. Questo è un acquedotto importante perché arriva l'acqua anche nella zona di Urbino, Monte Calvo e Auditore. Quindi chiaramente questi sono dati che stanno a significare che le sorgenti oggi risentono fortemente di quello che è un cambiamento climatico già intervenuto e che in assenza di nevi e nevicate importanti e nei momenti giusti ovviamente non riescono più a rimpinguarsi. Quindi da un lato Marche Multiservizi ha chiesto e chiede ai cittadini un piccolo sacrificio, ma che è importante, è un contributo importante nell'uscire da questo periodo di grande siccità. Dall'altro abbiamo inviato una lettera a tutti i sindaci, al Presidente, al Direttore dell'atto e anche per conoscenza all'assessore regionale all'ambiente, evidenziando che bisogna fare delle scelte importanti e strutturalmente prospettiche. Ma la nostra conoscenza è storica dei dati e la lettura degli stessi, assieme anche all'apporto della scienza, perché abbiamo avuto rapporti anche con l'Istituto Meteorologico dell'Università di Urbino, ci dicono che comunque la situazione sarà sempre peggiore e la regressione lineare che noi abbiamo ipotizzato delle nostre fonti superficiali, ci dicono che nel 2040, se continua questa regressione lineare, arriviamo al 2040, non avremo più acqua nelle aree interne. Vale dire che ci mancheranno 6,7 milioni di metri cubi di acqua. Sicuramente il sistema rischia di implodere, anche perché non si trovano soluzioni, al di là dei costi, non si trovano soluzioni estemporanee o comunque immediate. L'acquedotistica, il suo provisionamento, la sua rete di distribuzione richiede conoscenza, scienza, professionalità e richiede soprattutto soluzioni che guardino avanti e che diano una prospettiva strutturale di soluzione per un territorio. Questo ci tengo a dirlo perché non vorrei mai che qualcuno pensasse o potesse dire che l'amministratore legato di Marche e Multiservizi non l'aveva detto. Non è presunzione la nostra, è solo mettere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni il nostro sapere, che è tanto. E siccome questo è uno dei temi fondamentali per la vita, la sopravvivenza, oggi parliamo tanto di resilienza, ma se vogliamo essere resilienti dobbiamo essere sopravvissuti innanzitutto, e siccome l'acqua è fonte di vita e di sviluppo di un territorio, credo che il nostro dovere sia proprio rappresentare questo aspetto in modo tale che chi ha le prerogative, il potere di decidere, lo possa fare.